Il libro che vi presento questa settimana si intitola Il riscatto fuori dal tunnel dell'usura, edito dalla San Paolo, firmato da Michela Vittrani, collega giornalista e addetta stampa della Consulta Nazionale Antiusura, Giovanni Paolo II a Bari. Ciao Michela, benvenuta. Ciao Paola, grazie a voi per avermi chiamata, grazie. Ti do del tu perché siamo colleghe. Allora, partiamo subito dal protagonista di questo libro. Come ti dicevo prima, a microfoni spenti, un libro molto forte, un libro che coinvolge ed è quasi un pugno nello stomaco per gli argomenti forti che tratta. Protagonista del tuo libro è una storia vera, ecco, è Riccardo, a cui l'usura ha preso tutto, ha preso anche l'anima. È la storia di un uomo che si è trovato nel tunnel dell'usura e che grazie alla Fondazione Nazionale Antiusura di Bari ne è uscito. Allora, Michela, andiamo per ordine. Riassumiamo i passaggi fondamentali della storia. Sì, innanzitutto vorrei dire che Riccardo è un nome di fantasia. La persona esiste, insomma, vive, insomma, ora c'è una sua vita, ma è un nome di fantasia. Lui ci tiene, insomma, all'anonimato, restare anonimo. Riccardo è un giovane di 25-26 anni che nel 2002 aveva un lavoro precario, prendeva 500 euro al mese, sì e no, con una fidanzata da 10 anni e decidono di sposarsi. Decidono che è arrivato il momento di affrontare il grande passo, ma entrambi appunto non avevano soldi, non sapevano come fare, che decidono di indebitarsi per acquistare un'attività commerciale. Acquistano questa attività commerciale e, insomma, da quel momento comincia per loro, diciamo, il grande calvario che hanno voluto affrontare. Si sono imbattuti in un incontro, insomma, di una persona che si presentava come l'amico, come il benefattore, ma lui scoprirà quando ormai si è indebitato, quando ormai non ha più nessun intorno, si sono rotti e si sono spettati tutti i suoi legami familiari, che non era l'amico, bensì una persona che aveva altri scopi. Esattamente. Non mi voglio dire, insomma, quali erano, perché, insomma, in questa attività commerciale erano installate anche delle slot machine, quindi sembravano, allora, lui incontra vari personaggi, i protagonisti sono diversi, e sembrano degli incontri casuali, ma non lo sono, c'è una regia alle spalle, si trama alle sue spalle, lui incontra i vari stadi della malavita locale, dal semplice usuraio che ha il compito, appunto, di piazzare dell'anno sporco della malavita, sino ad incontrare anche il capo clan, appunto, di una banda locale. E qui lui capisce che si era imbattuto in una situazione più grande di lui. E come lo capisce? Quando ormai era, diciamo, allo stremo delle sue forze, delle sue energie, si ritrova a Monte Sant'Angelo, perché lui voleva cercare un po' i ricordi di sua mamma. Lui, mentre era vittima di usura, è morta la mamma e non ha avuto nemmeno il tempo di pensare, insomma, di realizzare quello che gli era successo, perché giusto una parte del libro, mi posso citare, lui chiamò il suo usuraio e gli dice che non poteva presentarsi all'appuntamento per portargli, insomma, la quota di soldi, perché aveva il funerale di sua madre. E lui, dall'altra parte, gli risponde, non mi interessa, se tu non mi porti quanto mi devi, ai tuoi cari, ai tuoi figli, potrebbe succedere qualcosa, insomma. Ecco, poi si gioca anche sugli affetti familiari, si gioca anche in questa situazione, ecco, questo risvolto psicologico. Tu hai citato Monte Sant'Angelo. Mi viene anche appunto da ricordare come nel tuo libro emerge chiaramente che l'usura ti allontana da tutto e da tutti, ti allontana anche da Dio. Questa persona ha perso anche la fede, ha perso ogni tipo di riferimento. E c'è quel passaggio molto forte, questo appunto che stavi citando tu. Lui, preso dalla disperazione, decide di recarsi a San Giovanni Rotondo, passando per Monte Sant'Angelo. Lì c'è un incontro anche inaspettato. E forse proprio lì poi decide, o chi lo sa, insomma, non ricordo me, lì decide di chiedere aiuto e di rivolgersi a voi, a Monsignor Durso, alla Fondazione Nazionale Antiusura. Lì scatta qualcosa? Sì, allora lui ha questo momento appunto di, cioè in cui si rende conto e realizza della situazione in cui appunto si è trovato, più grande di lui, insomma, prende la macchina e si incammina verso Monte Sant'Angelo senza saperlo, senza saperlo, perché lui aveva intenzione anche di, insomma, di chiudere, di chiudere anche con tutto, di chiudere anche con la vita. E ad un certo punto lui ha un dialogo con, cioè io non saprei definirla con una persona oppure una persona oppure con un soggetto magari anche frutto della sua fantasia, perché lui quando me l'ha raccontato ha detto, Michela, io guarda, ancora oggi io ho difficoltà a dirti con certezza se quella persona con cui io ho parlato quella sera esiste davvero. Sta di fatto che lui ha questo dialogo con questa persona, con questa entità e poi decide di tornare a casa dai suoi familiari e di confidarsi con la sua famiglia. Ecco, l'incontro con voi, con Monsignor Durso, con i volontari, con tutti gli esperti della Fondazione Antiusura, la denuncia gli fanno intravedere una luce in fondo al tunnel, quindi la possibilità di uscire da questo tunnel nel quale purtroppo si è ritrovato, è entrato per una serie di motivi. Ecco, quindi in un certo senso si lancia il messaggio che è possibile uscire dal tunnel dell'usura e che è necessario chiedere aiuto, Michela. Sì, è necessario sicuramente chiedere aiuto. In quei momenti le vittime di usura intorno a sé vedono tutto nero, un po' hanno paura, un po' si vergognano, perché in genere quando gli usurai entrano nella vita delle persone tendono a fare loro il vuoto intorno, a spezzare i legami familiari, a spezzare i legami con gli amici, per cui per loro diventa difficile confidarsi. E la cosa paradossale è che loro preferiscono parlarne con gli strani come ha fatto Riccardo, che lui ha fatto naturalmente l'errore o l'ingenuità di parlarne come un estraneo piuttosto che con i familiari. Lui in quel momento capisce che le persone con cui doveva confrontarsi e confidarsi erano i suoi familiari, la sua famiglia. E poi capisce anche che la denuncia è l'unica maniera per uscire da questo vortice in cui si era cacciato perché comunque gli aveva chiesto Don Alberto che era il presidente della consulta anti-usura, gli aveva chiesto la moglie, gli aveva chiesto la mia mogliata, gli avevano chiesto tutti. Era un passaggio sicuramente difficile per loro perché denunciare queste persone significa anche mettere a rischio la famiglia, anche la vita propria e dei propri familiari, ma comunque andava fatto. Mi ha colpito un passaggio in cui Monsignor Dusso che è il presidente della fondazione chiede a ricche Riccardo di conteggiare quanti soldi ha dato fino a quel momento agli usurai all'usuraio e lui doveva restituire adesso non ricordo bene la cifra 35 mila euro giudì ne ha distribuito non il doppio il triplo cioè una cosa assurda quindi aveva già in un certo senso ecco ripagato il prestito e quindi perché si perde anche la lucidità si è impauriti si è in preda al panico a stati d'ansia quindi gioca anche molto il fattore psicologico immagino quindi è davvero un libro che consiglio vivamente e caldamente credetemi ha i contorni di un romanzo perché è una storia vincente però tenete presente che è davvero una storia vera quindi quello che viene raccontato è vero come lo vive Riccardo lo vivono tante altre persone nel nostro paese ci sono anche tutte le indicazioni su come contattare la fondazione nelle varie fondazioni regionali vero Michela sì il libro riporta anche le fondazioni i dati e anche come rivolgersi a loro mi piacerebbe insomma sottormarmi su questo perché molti hanno paura di denunciare e hanno ragione ad avere paura perché comunque nel momento in cui si denuncia le persone che insomma stanno loro dietro oppure che sanno praticamente tutto nel minimo dettaglio diciamo della loro vita quotidiana come si svolge loro sanno dove i loro figli sono a scuola sanno dove lavora la moglie dove lavora il fratello cioè loro ormai conoscono tutto quindi loro mettono diciamo in qualche maniera nelle mani della giustizia cioè loro si affidano alla giustizia nelle mani della giustizia la loro vita e i tempi della giustizia molte volte sono lunghi sono e quindi come dicevo la denuncia è un passaggio fondamentale è anche un passaggio coraggioso che comunque richiede lo sanno tanta forza e tanto coraggio e presso le fondazioni a chiusura poiché la consulta nazionale a chiusura è un organismo della conferenza episcopale italiana e in genere i primi ascolti li fanno i sacerdoti i quali sono tenuti al segreto della confessione quindi il primo incontro con la vittima lo fa appunto il sacerdote che è tenuto al segreto solo se la vittima decide di andare avanti di proseguire con tutte le altre tappe allora si porta tutta l'operazione e tutta l'operazione allo scoperto altrimenti resta il segreto della confessione che ha avuto con i sacerdoti questo è un argomento davvero molto vasto Michela che potremmo di cui potremmo parlare per un'ora intera sicuramente anche perché poi questo fenomeno è aggravato dal gioco d'azzardo ma davvero dovremmo fare un'altra puntata interamente dedicata a questo intanto vorrei davvero ricordare il titolo del tuo libro lo stiamo inquadrando in questo momento si intitola il riscatto firmato da Michela Di Trani sottotitolo fuori dal tunnel dell'usura edito dal San Paolo grazie davvero di cuore per essere stata con noi un saluto a Monsignor D'Urso e un saluto a tutti quanti i collaboratori della Fondazione Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II a Bari grazie ancora Michela grazie a te Paola e grazie a tutti voi i padri più tv grazie 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 a tutti